5 itinerari tematici con 78 percorsi guidati, 25 spettacoli itineranti in programma fino al 7 gennaio e tanta musica nelle chiese. E' la rassegna Rivelazioni, promossa dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, finanziata dalla Regione Campania con i fondi POC del Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022, a cura di Gabbianella Club Events, che ha ideato anche il progetto Musica Narrata nelle Chiese, e di SG Sass, che ha realizzato i 25 spettacoli itineranti. E' un progetto molto, secondo me, affascinante, è un 150 tra eventi, tra tour tematici, spettacoli, intrattenimento per strada per i turisti. Innanzitutto un fitto calendario di itinerari, tutti gratuiti ed aperti alle persone con disabilità che avranno posti riservati, che racconteranno Napoli con le sue leggende, i suoi misteri, le sue storie e le sue tradizioni. Napoli è capofila di questo programma e ovviamente ha sposato interamente la politica regionale, cioè quella dei tematismi dedicati al territorio, tematismi che valorizzano le tradizioni, le culture, i luoghi, gli spazi, le persone. La musica narrata nelle chiese proporrà invece un nuovo modo di raccontare l'arte e di svelare la storia e il mistero di un luogo grazie agli attori e alla musica. Si andrà da San Giovanni Maggiore alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, dalla chiesa di Donna Albina alla basilica di San Giacomo degli Spagnoli. Gli spettacoli itineranti toccheranno infine tre punti della città, Via Toledo Piazza Carità, Piazza Trieste Trento Via Chiaia, Piazza del Gesù De Cumani. Il nostro obiettivo è quello di costruire su questa grandissima affluenza di presenze turistiche che ci sono state in città, soprattutto in questo 2023, chiuderemo con cifre veramente da capogiro, costruire su questo la possibilità che a Napoli il turismo diventi effettivamente un settore propulsore di sviluppo, di economia, di benessere e anche di occupazione.